Benvenuti ragazzi siamo tornati in un video, oggi come promesso nel video scorso vediamo effettivamente tutte le novità in dettaglio dei prodotti annunciati all'Apple Spring Event 2021 che è stato eseguito alle 19 del 20 aprile 2021 quindi ormai tre giorni fa. Devo dire che sono rimasto sorpreso per alcune cose tra l'altro oggi alle 2 sono stati aperti gli ordini per l'iPhone viola, l'iPhone 12 e 12 mini viola e l'AirTag che ho ordinato arriverà il video venerdì se tutto va bene se no video speciale sabato. Allora prima di tutto parliamo subito dell'AirTag, AirTag Tracker abbiamo visto sempre lo stesso stile di un Tile o di un Samsung Tag e un Tracker da mettere alle chiavi, da mettere allo design nel portafoglio a nostra discrezione possiamo rinominarlo a piacimento per traccare le cose in caso le perdessimo. Ha la possibilità di emettere suoni come può fare l'Apple Watch in caso lo perdiamo o far fare all'iPhone in questo caso si può controllare, geolocalizzare tramite l'app dov'è in italiano o find my in inglese che è l'ex trovo il mio iPhone e sono semplicemente chiamato dov'è in italiano che quindi ci permetterà di personalizzarlo, dargli un nome, dire queste sono le chiavi, questa è la chiave di casa, questa è la chiave della macchina, cuffie, zaino, portafoglio o così via. Non abbiamo da quello che ho abito un limite di quanti AirTag possiamo collegare al nostro account quindi io adesso ho iniziato a prenderne due che quindi utilizzerò per le chiavi di casa e per il mio portafoglio. Quindi noi abbiamo poi la possibilità di come ho detto fargli emettere i suoni, localizzarlo a un certo punto quando siamo a una certa distanza ridotta dal dispositivo abbiamo la possibilità di avere un'indicazione precisa della direzione e dell'altezza in cui il AirTag si trova rispetto a noi. Questo però si può fare soltanto con i dispositivi con un chip proprietario di Apple dedicato e si chiama U2, U12 mi sembra, adesso devo verificare, che è attualmente integrato negli iPhone 12, 12 mini, 12 pro, pro max, quindi l'ultima linea di iPhone e probabilmente che seguirà poi gli altri prodotti. L'AirTag è disponibile in due configurazioni ovvero l'AirTag singolo al prezzo di 35€ e l'AirTag in pack da 4 quindi 4 AirTag al prezzo di 119€. Quindi alla fine dei conti andiamo a risparmiare 20€, ne volessimo 4. Non è male, sicuramente non mi dispiace come scelta commerciale. Alla fine c'è anche un modo diciamo per fregare un pochettino il sistema ovvero dividerlo con gli amici, io ho comprato il pack da 4, due li tengo io, uno lo do a un mio amico, uno lo do all'altro, ovviamente loro me li pagano e siamo andati a risparmiare. C'è la possibilità di personalizzarli sia se prendiamo il pack singolo che il pack da 4. Poi ci sono accessori, abbiamo visto accessori in pelle in silicone, ufficiali Apple, alla cifra di 39€ per il portachiavi in pelle e alla cifra di 35€ per il portachiavi in pelle con l'aceto o in silicone con l'aceto. Poi abbiamo i portachiavi Hermes che sono tre in configurazioni diverse che costano il DD, quello che costa di meno insieme costi 250€. Poi ci sono quelli di Belkin, Belkin che alla fine ha due, lo stesso tipo di portachiavi come form factor ma uno con l'anellino e l'altro con l'aceto. Disponibili in quattro colorazioni, bianco-nero, rosa e blu mi sembra, sì. E questi qua sono disponibili al prezzo di 13€ e 95 centesimi, sempre sui sito di e. Questi accessori qua li vedremo sempre, almeno alcuni li vedremo sempre nel video dedicato agli AirTag. Poi hanno annunciato l'iPhone 12 e 12 mini viola, nessuno ha modificato hardware, solo e unicamente estetica esterna per la colorazione sia della scocca che della back cover che saranno un viola un po' più saturato rispetto al viola che c'era nell'iPhone 11, niente di più, niente di meno. Abbiamo visto una nuova interfaccia per l'app Apple Podcast che ci permette non solo più di seguire il podcast che ci piace ma direttamente il creator così da far sì che in caso questa persona qua abbia più podcast, più show, più cosa, anche collaborazione con altri possiamo seguire lui per vederli tutti anziché seguire il singolo podcast. E dovrebbe esserci poi una funzione per sostenerli in qualche modo da quello che ho capito. Poi abbiamo visto un aggiornamento per l'Apple Card che adesso da una funzione Apple Femini Apple Card Femini che probabilmente permette di fare delle specie di carte prepagate da intestare anche dai minorenni di chiunque rientri nella sezione Apple Femini del nostro account. E funziona che esiste ormai da molti anni. Civo cifra dell'arrivo presto in Italia, hanno detto che arriverà in altre regioni del mondo. Sentendo in giro, parlando con gente che lavora nell'ambito bancario in Italia mi hanno detto mesi fa che l'Apple Card in Italia dovrebbe già esserci e in fase di testing. Quindi probabilmente c'è una buona speranza e io spero che entro la fine del 2020 non vedremo l'Apple Card anche in Italia. Poi abbiamo con una bella sorpresa che non pensavo l'iPad Pro nuovo in formato 11 pollici e 12.9 che si aggiorna sia cambiando l'hardware che non sarà un chip nuovo ma cioè non un chip nuovo della serie A quindi quella utilizzata per gli iPhone e per gli iPad o per l'Apple TV ma un chip M, quello dei Mac abbiamo l'M1 quindi abbiamo un processore di fascia altissima all'interno dell'iPad che ci permette di avere nuove funzionalità quindi hanno integrato la presa Thunderbolt nella tipo C quindi maggior velocità di trasferimento dati possibilità di collegare un monitor per i ferichi esterni Ethernet, dock poi abbiamo un aumento della velocità, del storage e della quantità quindi si aggiunge un taglio di 2TB a quelli già esistenti quindi abbiamo il 256, il 128, il 512, il 1TB e 2TB sapevamo già che aumentavano i giga di RAM con quello da 1TB probabilmente aumenteranno ancora i giga di RAM con quello da 2TB lo schermo dell'iPad è da 12.9 pollici va a prendere la stessa tecnologia del Pro Display XDR di Apple il monitor 6K che è stato annunciato col Mac Pro nel 2019 ovviamente nel formato più piccolo anche di risoluzione ovviamente non abbiamo un 6K su un'iPad sarebbe anche un po' figo però con anche la combo della tecnologia MiniLED quindi dovremmo avere migliori colori migliore gestione dei contrasti migliore saturazione maggior luminosità e ovviamente maggior qualità tolto questo si aggiunge un altro accessorio per l'iPad ovvero la Magic Keyboard per l'iPad Pro adesso si cambia colore e si aggiunge il colore bianco niente di più niente di meno poi abbiamo una di quelle cose che forse è stata una delle cose che mi ha colpito di più di questo evento Apple ovvero l'Apple TV 4K l'Apple TV 4K si aggiunga lato hardware con il nuovo chip A12 Bionic nuovo per la linea Apple TV questo ci dà la possibilità di avere maggiori frame rate con l'HDR 4K ci permette comunque di avere una gestione più fluida del nostro dispositivo e ovviamente un processo di registrazione e lettura delle immagini migliore ovviamente per poterci far fruire comunque dei contenuti sia col Dolby Atmos che col Dolby Vision quindi sia un ottimo lato sonoro che un ottimo lato visivo cosa però la feature che mi ha sorpreso di più è la possibilità di usare il nostro iPhone probabilmente uno di quelli più recenti non penso si possa fare con tutti ma col nostro iPhone semplicemente prendendolo e mettendolo davanti all'Apple TV nella sezione che ci compare sullo schermo potremmo usarlo come colorimetro e quindi poter tarare il colore della nostra TV per avere la migliore qualità di immagine possibile nel lato sia dell' luminosità che di saturazione che del colore stesso per avere anche comunque delle immagini più fedeli alla realtà questa cosa di solito si usa con dei dispositivi apposta acquistabili a parte che si mettono sul monitor che si usano per tarare il colore per chi fa fotografie e videomaking a livello professionale e quindi di conseguenza ha necessità di avere il miglior colore possibile quello più realistico e fedele possibile che vale per tutti poi abbiamo un nuovo telecomando un nuovo controller chiamiamolo come voglia il TV remote che ha avuto un redesign completo quindi perdiamo probabilmente tutta la fabbricazione del lato superiore in vetro perdiamo la scocca in alluminio singola cioè di mezzata cioè qui sopra era vetro dietro era alluminio adesso è un'unica scocca in alluminio le tasse che rimangono in plastica ricompare la ghiera touch che si vedeva negli iPod che ci permetterà di andare avanti e indietro nei nostri contenuti in base a se scorriamo adesso o scorriamo a sinistra ci sarà un tasto dedicato a Siri che ovviamente non sarà attivo in Italia ancora cioè il tasto si ma a Siri in italiano no perché a parte che sull'iPhone non ho ancora capito il motivo non riescano a finirlo di fare in Italia no non riescono HomePod Apple TV tutto il resto non riescono quindi lo stanno ancora finendo e questo nutricomando sarà tutto in alluminio ci sarà anche un tasto dedicato per accendere e spegnere che sugli altri non c'era il prezzo rimane invariato per la nostra Apple TV sarà il prezzo uguale a quella generazione precedente quindi 199 per il taglio da 32GB e 219 per il taglio da 64GB poi abbiamo l'ultimo l'ultimo pezzo c'è l'ultimo annuncio che hanno fatto ovvero l'iMac l'iMac 24 pollici che va a sostituire attualmente solo l'iMac 21 pollici e mezzo della generazione scorsa abbiamo un upgrade sia di polliciaggio quindi passando a 21 pollici e mezzo a 24 abbiamo un redesign completo non sembra minimamente più quello vecchio con la possibilità di scegliere più colori cosa che non era mai successa per un iMac con tanti colori poi ovviamente monta il chip M1 come processore in due configurazioni diverse però stavolta versione base 8 core di CPU e 7 core di GPU invece la versione avanzata è quella che abbiamo già visto anche sugli altri dispositivi quindi 8 core di CPU e 8 core di GPU con l'acquisizione della base abbiamo delle cose in meno quindi abbiamo il modello base abbiamo due Thunderbolt USB 4 e basta con 8GB di RAM e 256GB di SSD e la Magic Keyboard normale con il modello più avanzato abbiamo 256GB di SSD 8GB di RAM due porte Thunderbolt USB 3 USB 4 scusate due porte USB-C USB 3 poi abbiamo la presa Ethernet che adesso non è più nella scocca dell'iMac ma è nell'alimentazione cioè ha anche il connettore dell'alimentazione lungo il cavo e la Magic Keyboard con il Touch ID poi c'è ancora una versione maggiore che è uguale ma con 512GB di SSD sì figo interessante non mi ha sorpreso più di tanto alla fine abbiamo una risoluzione di 4K e mezzo abbiamo già visto le iMac con il 5K e il Pro XDR 6K quindi come pannello non mi fa impazzire e comunque sarà comunque un ottimo pannello non mi fa impazzire le altre modifiche sono state lato speaker lato microfono e lato video per favorire i meeting le riunioni le cose da casa Zoom Discord Google Meet e quelle cose lì sinceramente non mi sentirei di acquistare questo prodotto almeno per me io attenderò un modello 27-28 pollici 32 sono quelli i tagli vociferati ovviamente che dovrebbe essere sempre 5K con anche un processore più potente rispetto a me perché dovrebbe essere già una fascia più alta più pro questi erano i vari annunci di questa Apple Conference 2021 per la primavera ovviamente sappiamo già che in data di giugno a inizio giugno se non sbaglio il 6 o 7 ci sarà il WWDC 2021 non abbiamo avuto altri annunci quanto Apple Watch iPhone altri tipi di Mac roba musica tipo Airpods quindi mi aspetto in futuro altro probabilmente qualcosina magari ce lo sparano fuori anche al WWDC io vi ringrazio per aver visto questo breve video riassuntivo di tutto quello che è stato annunciato in questo evento fatemi sapere la vostra opinione nei commenti lasciatemi un bel mi piace per farmi capire che quello che faccio interessa a qualcuno ci vediamo ovviamente in un prossimo video che saranno dei video interessanti e segnatevi per prossima settimana l'arrivo del video degli AirTag e poi vediamo l'iPhone viola non arriverà ve lo dico già subito l'iMac probabilmente non arriverà sto ancora pensando all'Apple TV sto ancora cercando di capire se ne vale la pena o no vedremo io vi ringrazio ci vediamo in un prossimo video ciao ciao